Salve ancora una volta, eccomi di nuovo qua, il vostro San Pensante, e mi raccomando, state bene, mi filmo con il mio LG KP215, che erano molti anni che già non si amava su questo messo cellulare. Se volete sapere dove mi trovo, chiedetemelo nei commentari all'invio. Ciao, voglio vedere se YouTube carica bene questo formato, 30D o 30D. Arrivederci di nuovo, presto caricherò nuovi video, e grazie per i tanti like, e soprattutto farò un video, che lo devo fare il 7 febbraio, dell'anniversario del secondo anno di questo canale, e grazie per aver superato le 100.000 visioni, farò tutti e due i video che volevo fare alle 70.000 visioni, farò il video per le 100.000 visioni, e il video per i due anni dell'onormatico del canale. Grazie allora ancora una volta per seguirmi, a presto e arrivederci.